L'addio di Torino stamane a Gaetano Scirea, un lungo, fortissimo applauso che ha scosso tutta la città. Non era soltanto il saluto ad un grande ex campione del mondo calcistico, vittima in Polonia domenica scorsa di un incidente stradale, ma il riconoscimento più spontaneo da parte di 20.000 persone, ad un ragazzo esemplare che ha praticato sport, vincendo tutto quanto c'era da vincere, senza mai perdere la sua dimensione umana, senza mai ergersi pur essendo la protagonista. E la sua scomparsa, tragica e improvvisa, lontano da casa, senza poter salutare nessuno dei suoi tanti amici, senza poter riabbracciare sua moglie Marielle e suo figlio Riccardo, ha colpito la gente. Stamane, dentro la chiesa della Crocetta, dove si è svolto il rito funebre, ufficiato dal vicario della diocesi di Torino, Monsignor Peradotto, e dal parroco Franco Alessio, si è presentato per l'estremo omaggio a Gaetano Scirea, tutto il mondo del calcio italiano, il presidente Mattarrese, l'ex presidente Sordillo, il presidente della Lega Nizzola, Boniperti e tutta la Juventus che piange un uomo che era la sua bandiera di stile e di successo, Borsano e tutto il Torino, quasi tutti i campioni del mondo nel 1982 hanno reso omaggio al loro compagno. Oltre al presidente della Fiat Gianni Agnelli e al figlio Edoardo, c'era il tecnico della nazionale vicini, presidenti, ex presidenti, allenatori, giocatori, politici. Ma fuori, ad ascoltare la messa attraverso l'altoparlante, non c'erano soltanto i tifosi della Juventus su semplici sportivi, c'era la gente qualunque, quella che forse ha saputo dai giornali o dalla televisione che era morto a 36 anni, un campione vero. E ad uno come Gaetano Scirea, sepolto nel pomeriggio a Morzasco, dove è nato sua moglie e dove si era sposato, un lungo applauso era dovuto. Noi, se permettete, lo vogliamo ricordare così. Grazie a tutti.